Devo dire una cosa, dice contaminazioni, però io c'ho qualche anno più di loro e ci ho riconosciuto in questi pezzi roba addirittura anni 80, anni 90, delle impunture di Beverly Hills Cop, del film Eddie Murphy, qui c'era un pezzo di colonna sonora, c'era roba di Shadé, c'era un pezzo di Tecnotronic, quindi primi anni 90, perciò insomma voglio dire, bravi che avete messo insieme questa roba, complimenti. Grazie. Ci ho preso? Ci ho beccato? Sono quelli lì, quelli che passavano per la musica? Più o meno? Più o meno sì, va bene. Allora c'è un po' di pubblicità, prendiamo fiato, ci asciughiamo un po' il sudore e poi ritorniamo qui ovviamente con l'Electro Dance dei miei amici, qui fra pochissimo, a Dage Barbie Show. Beh, oggi non c'è che dire, inizio settimana ci stiamo divertendo, ho portato qua tre ragazzi strepitosi e ci stanno facendo veramente vedere quella che è la nuova tendenza del ballo. Ma non crediate che poi si vada in discoteca e tutti ballano così, cioè nel senso che cosa c'è? Ma no, ma non si balla neanche quella roba lì, ma no, è la quadriglia. No, no, nel senso che comunque loro lo fanno di professione e lo fanno in una maniera coordinata. Ora sarebbe bellissimo vedere dentro ai club tutte le persone che insomma così si muovono e hanno rudimenti di tutto ciò. Ma ancora c'è gente che si muove a tempo, anzi ti dirò di più, c'è ancora gente che proprio non si muove a tempo, però è il bello di andare a ballare e conoscere gente. Vi ripresento quelli che sono i miei amici ospiti di oggi del mio show, sono Alex Molinari, Leandro Manrique e Andrea Zamparo, tre rappresentanti dancer dell'Electro Dance. Allora, noi abbiamo visto... Ciao Barbie! Ti vedo tutte le sceglie! Grazie, grazie, ti ringrazio, vi ringrazio come ogni giorno. Allora dunque, noi abbiamo visto questi stili e pian piano ce li state snocciolando, però c'è una preparazione dietro, perché se uno non si prepara, noi siamo abituati a vedere i ballerini in costume, in realtà voi avete l'abbigliamento, quello che si chiama street, cioè quello che usate comunemente, perché poi... Diciamo di sì. Sì, ma come ci si prepara? Come ci si aggiorna? Come si conoscono un po' tutte le tecniche? Allora, per quanto riguarda l'Electro, visto che è un ballo che non è ancora molto conosciuto, proprio come hip hop, si guardano molti video su YouTube, cioè almeno io come persona guardo molti video su YouTube, vado ad eventi in cui ci sono altri ballerini in cui prendo spunto... Quindi giri un po' in Italia, all'estero anche per vedere... In Italia, diciamo, all'estero si spera, più si vedrà. Ok, molto bene. E quindi là vai a vedere un po' la tecnica? Sì, si guarda dal vivo quello che poi uno cerca di fare poi... Ci sono in Italia dei rappresentanti, diciamo, di somma massima di questa disciplina? Diciamo che uno prende spunto dai vincitori, magari dei tornei, quindi sono conosciute le persone che vincono i tornei, oppure che vanno magari in televisione a... Ok. No, hai fatto bene dirlo, perché come vedete c'è tutto un mondo che gira, e qui apriamo una bella parentesi, nel senso che non sono limitati solamente... Oggi non è limitato solamente il ballo. C'è un filone culturale, di tendenza, purtroppo anche a tratti particolarmente commerciali, che genera un insieme, fate finta di vedere una pallina di neve che cade dal cucuzzolo della montagna e ruzzolando diventa sempre più grande. Questo è anche un po' il sistema, no, del grande fratello che si muove a livello commerciale, perché poi in realtà queste sono situazioni che fanno spendere, fanno muovere, lo diciamo, perché poi effettivamente c'è proprio tutta una cultura. Cosa c'è? Andrea Barbie, tu che vai in giro... Ma che stai dicendo? Ma piangere, non ce l'ho, che la gente mi ferma... Poi tra l'altro cos'è che è? No, a parte dice Cadillac, che poi comunque non ce l'ho, un'altra macchina. Bene, Leandro, no, è vera questa cosa, no, che prendi il microfono. Cioè che fondamentalmente si muove un mondo, ma si muovono poi altri 4-5 mondi paralleli, nel senso l'abbigliamento, il modo di ascoltare anche la musica, proprio di proporre nei dance floor anche determinati tipi di musica. È vero, è vero. Con l'Electrodance infatti si è iniziato ad ascoltare di più la musica, a curare di più la musicalità, di più la tendenza per quanto riguarda l'abbigliamento, appunto come dicevi tu, i capelli, la conciatura. E sì, si muovono altri mondi paralleli, sempre di più... Che diventa la famosa moda, più che altro la tendenza. Tendenza più che moda. Moda è stata ai tempi della tectonica, di pallone. Ok, quella è la moda, poi dopo si va a finire la tendenza. Andrea, il primo abbiamo citato tutto quello che compone questo tipo di... movimento poi alla fine, non è solo una disciplina. E devo dire la verità che mi accorgo che poi in realtà di nuovo c'è giusto quello che magari fate voi dal punto di vista del movimento, che poi magari anche lì sono contaminazioni. Perché io riconosco, c'è anche per esempio, non so, ti guardo, mi vengono in mente The Cure, no? Ti vedo, un po' sbiondato, però una roba del genere. Che significa che è vero che c'è un ritorno nelle nuove generazioni di quel decennio che è stato gli anni Ottanta e vedo che sta sbordando anche molto già negli anni Novanta. C'è questo ventennio che si ricicla, ma anche per esempio, che si ricicla. Cioè è vero? E molti scoprono invece essere cose nuove quando in realtà, poi vent'anni fa, trent'anni fa, c'erano ancora. C'erano già. Esattamente, molto spesso accade così. Infatti adesso probabilmente anche, è vero che anche questo esempio, tu hai fatto l'esempio dei capelli biondi, andava molto di moda negli anni Ottanta, adesso chiaramente è tornato di moda perché tutti ce li hanno quasi. Mi dispiace anche dirlo, ma perché? No, vabbè, voglio dire, tu stai anche particolarmente, cioè nel tuo personaggio, poi tu sei un ballerino, effettivamente sei anche, siete tutti nel vedervi, anzi mi sembra Alex che mi sembra quello più normale, però tra l'altro lui è anche insegnante, quindi tutto sommato deve avere anche... Devo stare un po' serio. Deve stare un meno, ma non è che non è una questione di serietà, io sono vent'anni che vado con i capelli dritti, quindi non è che... cioè voglio dire, uno fa un po' quello che gli pare se è vero, non è il capello, non è la roba. Però capisco che molto spesso la nuova generazione macina e mastica cose in realtà invece già passate. Mi ricordo una situazione tipo, è stato sufficiente prendere la canzone degli Alphaville, Forever Young, chiamarla Young Forever, rifarla con altre sonorità, ma la stesura era quella, cioè una cover, e la gente in discoteca viene a dire, oh caspita bellissima, quando è che è uscita questa? Eh, trent'anni fa, cioè nel senso, eh sì, però forse è un po' questo il segreto, che magari oggi è più difficile inventare, è meglio, come si dice in gergo, rincicciare. Praticamente sì, però quello che facciamo io e Leandro è sempre cercare di... Praticamente cercare sempre soluzioni nuove, cercare insomma di curare l'aspetto estetico, di curare soprattutto la parte danzante, perché alla fine noi tra virgolette siamo danzatori. No, no, effettivamente ho visto anche che avete fatto nel pezzo che avete fatto prima, ci sono anche dei crismi di classica. Esattamente, esattamente. Cioè, quindi fondamentalmente questo è bello. Senti, chi mi fa vedere e che cosa adesso? Chi balla ora? Tutti. Tutti e tre insieme? Sì. Che bello, un ensemble, usando un termine della danza. Cosa fate? Dai, raccontami. Eh niente, un altro freestyle, magari una coreografia, non penso che ci sia, vediamo, guardiamo cosa fare. Vabbè, perché poi lo so un po' così, eh, cioè parte un pezzo, loro ballano anche sulla suoneria del telefonino, che gli frega, cioè voglio dire, non conoscono la rosa, sono bravi, quindi... Molto bene, dai, posti di combattimento, vediamo un po'. Allora, oggi stiamo, prendo una finestra su quello che è una nuova tendenza, si chiama ElectroDance. Abbiamo Alex, Leandro e Andrea che ci fanno vedere, insomma, di che cosa si tratta. Ale. We are back. Allora, oggi stiamo, vediamo, 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 vediamo. Ciao. 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 Beh, complimenti, eh, bravissimi, bene, molto bene, accomodatevi pure. Allora, come avete visto, stanno cercando di farci vedere a pezzi e bocconi, cosa c'è? Eh, tanta roba, tantissima roba. Bravi. Ma, dicevo, stanno cercando di farci vedere un nuovo movimento di ballo, no? E questo mi piace. Comunque, continuo a dire, bello tutto, voi siete bravissimi, però i pezzi, per esempio, dice, ah, c'era il pezzo di Madonna, no? L'ho sentito bene. In realtà, quello è Gimmi, Gimmi, Gimmi degli Abba di 40 anni fa, che non è male, che è la stessa roba, eh, lo dico. No, però è bello, a me fa molto piacere, perché quantomeno la mia generazione, in parte, può riconoscersi in queste cose. Non è solo tunz, 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 come si diceva una volta. Meglio così. Eh? Molto meglio così. Meglio così, lo sapevi che la canzone di Madonna era quella degli Abba, vero? No, te l'ho detto io. Vabbè, basta sentire, io non l'avevo mai pensata. Sono sincero. Il giro di Pseudo Cornamuso quanto tale, no? Della canzone di Madonna, se non vado errato, Hang Up, giusto? Ecco, era il ritornello di una canzone che era Gimmi, Gimmi, Gimmi degli Abba, quelli di Fernando ed S.O.S. Anni 70, vestiti tutti di bianco, due avevano la barba, due no, perché quelle due no, erano due donne. Bene. Allora, no, lo dico, gli Abba era quella. Abba, insomma, voglio dire. Andrea Barbie. Tu va di tuoi interessi. Vabbè, allora, la Barbie, cosa vuoi, eh. Allora, facciamo una cosa, diamo un po' di appuntamenti e diamo anche le directory di dove prendere contatti con i nostri amici in Se hai voglia, Se hai tempo. Se hai voglia, Se hai tempo. All right, allora, attenzione, bene. Beh, perfetto, allora noi io... Se lui è la sigla, eh, non è che... Allora, saluto gli amici dell'Arci, che ci danno sempre queste informazioni. Il sito è www.archimodena.org. Ci ricordano che oggi alla polisportiva Madonnina di Modena, a partire dalle 20.30, consueta serata dedicata al Pinacolo in compagnia. Domani, invece, alla polisportiva formiginese di Formigine, in provincia di Modena. A partire dalle 20.45 c'è la gara di Burraco, già, effettivamente. Poi ancora, ricordo, un bel concerto dei nostri amici Rio, c'è il 7 di febbraio al Vox Club di Nonanto, a partire dalle 22 in provincia di Modena. Bene, ricordo anche, ci sono i due Facebook per contattare i nostri ospiti di oggi. Il primo è Alex Molinari Dancer, eccolo qua, e lì ci potete trovare tutti, poi, i concerti che fanno, lezioni, stage e quant'altro. Ce n'è anche un altro, che è Zampa e Lehmann, in realtà riguarda, appunto, Leandro Mariche e Andrea Zamparo. In ugual misura, anche lì, loro danno, ovviamente, quelli che sono le varie directorie di tutto ciò che accade nel mondo della danza. Let's all ride! Chi è che ha mandato la mail? Chi è che ci ha contattato di voi? Chi è stato? Cosa ti ha ispirato? No, mi ha fatto piacere, infatti io ho raccolto la tua richiesta, mi ha fatto piacere. Cosa ti ha ispirato passare al mio show? Cioè, cos'è che ti interessava particolarmente? Allora, niente, cioè io sto cercando di far espandere molto questo ballo. Ok. Allora io ho detto, guarda, Modena, chi posso chiedere? TRC? Eh. Chi c'è? Barbie. Eh certo, dove va? Mi fa sputtanare quando fa... Pensa a te. Pensa a te, quindi di fatto c'hai ragione, hai fatto bene. Bene, adesso guarda, proporrò una versione di Mo Pensa a te, magari ne facciamo una quest'estate insieme. Ah, magari. Io andrò a chiedere una roba incredibile, voi tre farete l'Electro Dance dietro il mio intervistato. Una figata pazzesca! So gostoso! So? let's all right bravissimi oh siete bravissimi grandi ragazzi e sedere bravi riposatevi un atto io tento sempre non ce la faccio sono rimasto a tucatucca mi piace questa musica che passa a Fausto Papetti e ai prodigi così tac in un attimo bravi bene allora ci cuciniamo day time poi torniamo qua buon vi a tutti bentrovati qui allo show occhio perché fra poco arriva la prima puntata nuova nuova fresca fresca warra warra Dimo pensa a te cosa c'è io guarda quando fate così siete insopportati una roba e a caso si divertono questa è la cosa incredibile vabbè questo è gam gam anni 90 bisognerebbe chiederlo a loro cioè ai miei ospiti se potrebbero inventarsi qualcosa su questo pezzo eccoli qua un bel applauso Alex Leandro Andrea rappresentanti dell'Elettro Dance c'è chi è ballerino di professione c'è chi è anche insegnante di professione come Alex Molinari dov'è che insegni tu? allora io insegno a Modena in via Munari 14 alla Dima Dance è proprio fatto bene cosa insegni? uno che insegna cioè dal momento in cui è tutto free come si pone la figura dell'insegnante? no le basi ci sono l'unica cosa è che uno nell'Elettro deve essere originale cioè può inserire molte cose io cerco di metto le basi e poi inserisco anche cose che magari per abbellire il tutto ah ok senti Leandro voi vi esibite spesso cosa fate molti club cosa fate stage piazze che fate? esibizioni facciamo più che altro in piazza palchi appunto in piazza della nostra città o sempre in provincia di Modena ok e poi si balliamo anche in alcuni club quando ci chiamano così non è proprio la nostra passione ballare in discoteca però accettiamo quel che c'è infatti ho colto Andrea voi siete più parateatrali cioè siete una via di mezzo tra la performance dei performer e dei ballerini esattamente tra virgolette adesso noi stiamo abbiamo anche soprattutto lavorato con un importante coreografo che è Virgilio Sieni che è un coreografo fiorentino e che appunto è venuto nella città di Carpi per realizzare un progetto che si chiamava l'Accademia dell'Arte del Gesto e uno spettacolo appunto che si è svolto a Carpi al festival Via Scena Contemporanea ok cosa c'è? cioè nelle vicinanze di Carpi a Carpi ti ha detto è quello era sì sì allora senti io ho una gran voglia di vedere ancora ballare cioè se mai vi foste persi qualcosa in questa puntata vi facciamo vedere loro ci stanno praticamente facendo una micro mini lezione esibizione detta proprio se dovessimo usare dei termini che usano loro loro ci stanno facendo vedere uno showcase di quello che è un po' quello che fanno nella loro vita quindi adesso così gran finale che fate? sempre tutte e tre tutte e tre tutte e tre anche in questo caso elettrodance su basi chiaramente mixate da voi costruite per l'esibizione bene Ale ok allora attenzione fra poco arriviamo pensatello facciamo questa volta rincorsa in danza con l'elettrodance dei miei amici Alex Leandro e Andrea e Ale grazie a tutti 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 wow lezzo live complimenti bravi 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 vi stiamo oggi ho cercato di proporvi qualcosa di diverso vedete che ogni giorno allo show c'è sempre qualcosa di diverso e oggi insomma li devo ringraziare perché ci hanno aperto un new age uno stargate nuovo cosa c'è? che bravi ma avete convinto anche la signora a casa meglio di così sì però signor guardali in televisione occhio ci vuole un po' di allenamento perché tutti sono capaci di fare quello che fanno loro ma loro riescono ritornare snodabili normali invece noi rimarremmo così esattamente come ci hanno posto allora bene al volissimo facciamo vedere di nuovo i loro facebook è quello di Alex Molinari dancer in questo caso eccolo e invece se volete incrociare anche gli altri due sono Zampa e le man in realtà Leandro Manrique e Andrea Zamparo eccolo qua il loro facebook mi raccomando è perfetto allora se insomma volete anche segnalare l'affetto che avete nei confronti di questi ballerini mandate come state facendo durante tutta la puntata gli sms al numero che vedete qui e sopra allora adesso c'è mo pensate nuovo argomento nuova puntata conduttore vecchio che sono sempre io cioè vecchio e poi ritorniamo qui che vi devo dare un paio d'appuntamenti ok allora questo è l'argomento da adesso a Welti su mi raccomando provate a giocare con noi devo salutare chi sono stati i miei ospiti di oggi perché oggi si balla ma oggi si è ballato insieme ai miei amici ballerini insegnanti di Electro Dance Alex Molinari Leandro Manrique e Andrea Zamparo ciao ragazzi in bocca al lupo fatemi sapere quando avete le esibizioni prossime ditemele che noi ci aggiorniamo su Facebook andate a vedere le pagine c'è tutto benissimo perfetto allora dunque io prima di salutarvi vi dico un paio di cose la prima questa sera alle 22 dopo la seconda puntata di Si fa per ridere ci sarà anche la seconda puntata della mia nuova trasmissione si chiama Una vita in vetrina vi ringrazio perché vi è piaciuta molto c'è un me in una versione diversa questo insomma mi fa anche piacere come dicevano i ragazzi sperimentare questo è molto bello io non l'avevo mai pensato ne ho detto ne ho detto ne ho detto vi farò conoscere due bellissime storie in vetrina di due storici bottegai del centro storico di Modena e questo è una roba ma ricordate dopo domani in diretta alle 21.15 ci verrà a trovare ad Aghe Barbiccio in diretta colui che ha vinto il Cantagiro colui che ha fatto un sacco di apparizione a Sanremo ma soprattutto il portiere e fondatore oltre ad altri grandissimi nomi della nazionale italiana cantante Paolo Mengoli che sarà con noi con noi mercoledì in diretta alle 21.15 allora io vi aspetto alla prossima sigla Aghe Barbiccio Aghe Barbiccio Aghe Barbiccio Aghe Barbiccio Aghe Barbiccio